Epifami possiamo dire che per quello che si è visto in campo una vittoria meritata da parte del Fano, superiore in tutti i fondamentali questa sera, corsa, sacrificio? Assolutamente sì, penso che stasera abbiamo fatto una grande partita, preparata bene, venivamo da una scoppola presa con la Gianna Herminio dove ci aveva fatto male e stasera abbiamo fatto la partita al contrario di sabato e siamo stati perfetti su tutte le cose che abbiamo preparato. Forse dobbiamo essere un po' più cattivi per chiudere la partita che la potremmo chiudere, però siamo stati sempre in dominio della partita, non siamo andati mai in affanno non abbiamo subito credo nemmeno un tiro in porta, forse un tiro di spighi che il portiere ha parato tranquillamente e questo è lo spirito che ci deve contraddistinguere da qui alla fine perché questo è un campionato terribile tutte le squadre di sotto vincono quindi è un campanello d'allarme, bisogna fare tanti punti per salvarsi quindi è ancora lunga e bisogna pedalare. E allora la scoppola possiamo dire che ha fatto bene? No, ha fatto bene, questa squadra in ultimi due mesi e mezzo ha fatto grandi cose noi dopo Salò eravamo ultimi in classifica a 9 punti e credo che in due mesi abbiamo recuperato a tutte le dirette concorrenti 7-8 punti e la squadra li posso imputare sulla squadra della partita di Giana che ci può stare perché poi abbiamo perso due partite con su Tirole e Imonese che secondo me sono due squadre fortissime e poi stasera abbiamo ripreso il cammino anche se non abbiamo fatto niente perché questo è un campionato terribile e ogni sabato i punti sono fondamentali per arrivare all'obiettivo. Questo Filippini un po' trequartista, un po' esterno d'attacco è stata un'idea dell'ultimo momento non l'avevi evidentemente tutte le indicazioni non davano questa scelta di formazione quando ci hai pensato? Sabato dopo la partita di Giana perché siamo una squadra che facciamo un po' fatica a fare qualche golletto in più è la prima volta che avevo a disposizione tutti e tre i giocatori lì davanti siccome è una difesa forte e ho tanti centrocampisti che si possono alternare lì in mezzo ho deciso di giocare in questa maniera rischiando qualcosina e dando un po' di coraggio alla squadra che è quello che ci voleva.